Buongiorno a tutti, eccomi qua con una nuova diretta con voi. Io sono Rosy di Parrucchieri Revolution e mi occupo della salute e della bellezza del tuo capello. Qua sopra trovi un link, ci schiacci sopra e ti apparirà Revolution Way, il nostro libro dove ti parliamo dei capelli, chiaramente, dove ti spieghiamo come avere i capelli wow, dove ti spieghiamo come sfatare tutti i miti sui capelli, le dicerie, tutte quelle cavolate che si dicono sui capelli. Ed è gratuito, ve lo regaliamo noi schiacciando qua sopra sul link. Oggi proseguo con il mese della diretta dei tagli, dei tagli e del colore soprattutto. Oggi la mia diretta parla di colore e taglio, l'abbinamento e la fusione del colore e taglio. Prestiamo tanta attenzione sempre al nostro abbigliamento, a come ci vestiamo, abbiniamo la borsa, la scarpa, la cintura. Stiamo attenti a tutte queste cose, quando ci si sbecca un'unghia corriamo subito a farcela sistemare. E poi magari andate in giro con i capelli con un colore orrendo. Oppure con un colore bellissimo ma che non c'entra niente né con i colori della vostra pelle né con il taglio che vi hanno fatto. Il taglio va a destra e il colore va a sinistra. Non c'è una fusione di entrambi. Certo, non è che uno cambia taglio, per forza deve cambiare totalmente il colore. Ma ci deve essere un abbinamento taglio e colore. Si vedono in giro ancora troppe donne con magari una strisciolina qua colorata. Magari anche, oh voglia di farmi il capello fucsia, una strisciolina fucsia. Piuttosto che degli abbinamenti di colore che non c'entrano niente col taglio che vi è stato fatto. Ripeto, magari colori bellissimi, fatti benissimo, con delle sfumature veramente belle. Ma insieme a quel taglio non significano niente. Alla revolution, noi sono anni che predichiamo che il colore deve fare un complimento al vostro taglio. Solo così c'è la perfetta fusione e la creazione, generare un vero look. Un'immagine perfetta per te è in grado di valorizzare la tua bellezza. Se queste due cose, se questi due elementi non si uniscono, non si fondono insieme, non potrai mai avere un look. Sono alla porta ma scusate, non vado ad aprire. Guardati bene intorno. Osserva le persone che ti stanno a fianco. Osserva questa cosa. Guarda se c'è questa fusione. Così ti renderai conto anche tu di quello che ti hanno messo in testa. Tanti parrucchieri sono specializzati magari nel taglio, fanno bellissimi tagli. Oppure tanti parrucchieri sono specializzati nel colore, ma non riescono a fonderle insieme. Quindi se anche tu vuoi un vero look, vuoi avere dei capelli wow, contattaci 0371898900 oppure 3409973923. Ti prendiamo un appuntamento, ti spieghiamo, ti diciamo cosa può valorizzare il tuo taglio o il tuo colore con un taglio. E niente, tutto qua. Tutto qua, se poi vorrai fermarti a farti fare il servizio, se no ci siamo conosciuti. Io ora vi saluto, vi auguro buon appetito e ci vediamo la settimana prossima. Ciao a tutti e buona giornata. Ciao a tutti e buona giornata.